Il Giro d'Italia a Lucca è stata anche l'occasione per attirare i grandi protagonisti delle due ruote del passato. Ieri è toccato a Francesco Moser, mai dimenticato campione del ciclismo, che ha visitato, arrivando in bicicletta come testimonial del Giro, organizzato dallo sponsor Banca Mediolanum, la mostra Car Copinski Wearing the Pink, dedicata alla celebrazione dei grandi eroi del pedale, fra i quali proprio il campione trentino. Moser, che era stato l'ultimo vincitore di una tappa con arrivo a Lucca nel 1985, ha conosciuto l'artista e si è fatto fotografare davanti al suo ritratto, che è stato anche utilizzato per una delle grandi biglie installate in piazza San Michele. So che ai tempi si usava che i bambini sulla spiaggia facevano queste gare con le biglie dei vari campioni, c'è chi aveva la mia, c'era di Saroni, di Gimonti, insomma tutti quelli che c'erano. Adesso credo che non si vuole più. Grande soddisfazione per gli organizzatori di Lucca Crea, che assieme al Comune in mattinata avevano consegnato la medaglia della città di Lucca all'artista Car Copinski. Car Copinski è stato sicuramente l'artista pur rappresentativo. Negli ultimi decenni di Lucca Crea, transitando tutte le discipline, dall'editoria all'illustrazione, al mondo del videogioco con Assassin's Creed. Era dieci anni che inserivamo questo sogno.